Adesso sentiamo invece Sandy, che è un'altra storia di successo del Servizio Volontario Europeo e lui riuscirà a farlo in italiano, giusto? Proviamo! Allora, ciao ragazzi, mi scuso perché non conosco l'italiano molto bene, ma ho scritto qualcosa qui, ma penso che non leggo bene, ma proviamo. Il mio nome è Sandy Twide e vengo dalla Scoccia. Otto anni fa, quando avevo 21 anni, sono venuto all'Anfas per un tironcino di 12 mesi. Prima del mio stagio ho lasciato la scuola con scarse qualifiche e ho trascorso qualche tempo con la mia nonna. Ho lavorato in una fabbrica di appendiabiti, il duro lavoro in fabbrica mi ha fatto capire che avevo bisogno di fare qualcosa di diverso, che era prezioso per la vita degli altri, a prescindere dal fatto che le persone hanno bisogno di qualcosa per appendere i vestiti. Vendendo da un piccolo villaggio non c'era molto da fare ed io e i miei amici facevamo uso di sostanze stupefacenti che mi hanno reso non motivato. Ho sentito parlare di EBS attraverso un amico che ha recettamente completato un collagamento in Grecia, dopo aver visto come era diventato motivato ed entusiasta. In seguito ho capito che questa sarebbe stata una preziosa opportunità di andare fuori dalla mia zona di comfort e provare qualcosa di diverso. Dopo alcuni incontri con l'AVS l'Anfas mi propose di lavorare per 12 mesi, mentre la prospettiva di vivere in un altro paese mi sembrava spaventosa. Sono stato sollevato dal pensiero di sfuggire dalla catente della mia città natale e dallo stile vita. Ho studiato un po' d'italiano durante il viaggio, da due ore in preparazione del mio arrivo, anche se ho avuto sei mesi per prepararmi, spiacente Anna. La mia prima frase era che sono molto stanco per il viaggio. Sono arrivato all'aeroporto Marco Polo indossando il mio kilt lagone scozzese e stavo ricevendo alcuni sguardi molto divertiti da persone dall'aeroporto e campagne di viaggio. Quando con i servizi igienici ho avuto una decisione difficile da prendere. Uomini suonava come woman, così sono entrato nel bagno delle donne e sono stato accolto con ulla. Per calmarmi ho deciso di avere un caffè. In Gran Bretagna un latte, un tipo di caffè, così l'ho chiesto dal momento che suonava italiano. Il personale dall'aeroporto rideva quando mi è stato presentato un bicchiere di latte. A questo punto ho deciso di telefonare Anna, la quale era sorpresa che ero un uomo dal momento che il mio nome era Sandy. Scopro che avrei dovuto dividere un appartamento con quattro ragazze. Fortunato a me. Tuttavia, il personale dall'aeroporto scoppia nell'arità quando vede un uomo con un bicchiere di latte, girandolo nella toaletta delle donne e dicono, no Anna, io sono un uomo. Durante il mio anno in Italia ho lavorato in vari laboratori per gli adulti con disabilità. Oltre a partecipare e assistere in questi laboratori, ho lavorato a stretto contatto con i residenti di Anfas durante i pasti e con la loro cura personale. Ho acquisito una preziosa esperienza nel lavoro con persone con diverse esistenze di supporto. Ho lavorato a fianco professionisti di diversi contesti sociali. Come risultato della mia permanenza in Italia ho trovato lavoro come supporto per gli adulti con disabilità in scoccia. Dopo alcuni anni questo mi ha fornito le competenze e le esperienze necessarie per accedere dall'università. Quest'anno ho finito una laurea in educazione comunitaria e ho accumulato notevoli competenze teoretiche e pratiche nel lavoro con persone disabili. La mia cerimonia di laurea era 4 luglio della settimana scorsa, però la mia mamma non era felice perché sono andato al concerto dai Black Sabbath. Credo che ci sarà sempre un lato ribello in me. Sento di aver chiuso il cerchio ora. Sto cominciando a cercare finizialmente per avviare uno scambio occultare internazionale per le persone con disabilità. Dal momento che questo è qualcosa che ha notevolmente beneficiato la mia vita vorrei offrire un'esperienza simile alle persone con cui lavoro. In breve, senza la mia esperienza all'EVS non avrei accumulato 8 anni di esperienza nel lavoro con persone con disabilità. Non avrei avuto il mio attuale lavoro come assistente di supporto e non sarai stato in grado di entrare all'università e probabilmente non avrei avuto la mia incredibile finanziata italiana. Grazie Sandy. In effetti mi ero dimenticata alcune degli aneddoti del suo arrivo, a parte il kilt che lo ricordavo assolutamente, ma il resto è stato veramente divertente. Per quanto riguarda l'esperienza di Sandy è fantastico sapere che l'esperienza che lui ha accumulato qui gli ha consentito non solo di laurearsi, ma adesso appunto di ricercare la modalità dei finanziamenti europei per creare un progetto di scambio tra le persone disabili con cui lavora lui e le persone disabili che lavorano qui all'Anfas. Quindi oggi pomeriggio parleremo anche di questo e a distanza di 8 anni le cose continuano, cioè non si chiudono le porte e se ne aprono di nuove, però le relazioni mantengono vivi i legami.